di sporco abbiamo ecco fatto abbiamo un po' di sporco da questo YouTube avete visto cosa ho scatenato cosa ho scatenato smontando una fake news clamorosa sul passaggio di vuote questi ignoranti non sanno cosa sono vuote azioni misure camerali capito non fanno una O con un bicchiere va bene non fanno una O con non riescono a fare una O con un bicchiere te ne ritrovi a parlare di finanza a fare dissing ad offendere professionisti seri che a differenza loro lavorano e portano il pane a casa gente che ha famiglie gente che sa cosa vuol dire il lavoro il salificio il risparmio e ricordo che eh prendere profili falsi e rispondersi da solo nei video perché noi abbiamo tutti gli in screenshot è un furto di identità quindi quello è un furto di creare profili falsi ora cosa ha fatto ha tolto le foto di quei profili falsi con cui si risponde da solo ma li usa per rispondersi da solo perché non gli risponde nessuno ovviamente a quei video vergognosi che comunque continuano a fare ma a breve a breve fosse l'ultima cosa che faccio ci sarà un bellissimo pulito sentirete un'aria di montagna un'aria di di un'altezza da mille e cinquecento duemila metri sentirete aria pulita per quello che riguarda il signor Zanon io ho commentato un articolo e da parte di tutti gli esonerati vi voglio rinnovare la nostra stima perché noi vogliamo l'onore di noi vogliamo l'onore di averlo in live il signor Zanon perché è tanto stimato da dei professionisti ragazzi del team siccome noi io lo stimo moltissimo il signor Zanon ho voluto toglierlo da una falsità ovvero sia hanno fatto sembrare che Zanon avesse detto che ci sarebbe stato questo passaggio di vuote che non esiste non penso che un professionista come Zanon una persona seria prestigiosa come Zanon una persona con la cultura di Zanon non penso proprio che eh abbia detto a questi personaggi che c'era stato il passaggio di vuote all'inter perché loro la fanno eh la fanno passare così quindi io penso anche se Zanon sia stato strumentalizzato tra virgolette da questi personaggi che usano il suo nome e mh gli mettono in bocca cose che lui non ha mai detto però ormai la pulizia è in atto io se tornassi indietro rifarei tutto per l'inter faccio questo e altro perché le fake news devono finire perché esiste il lavoro ci sono tanti posti dove poter andare a lavorare poi dopo se vogliono arrivare eh se volete mandare le denunce mandatele perché poi dopo ho visto che tra un poco qualcuno comincia a lavorare ci attacchiamo allo stipendio non ci sono problemi e facciamo una bellissima vacanza chiuso quindi noi come canale di chi sono erati al signor Zanon visto che comunque ci sono articoli di giornali di testate importanti sicuramente lui è estraneo ai fatti eh anche se loro scrivono altre cose gli auguriamo e possa dimostrare la sua innocenza che venga prosciolto da ogni accusa e gli rinnoviamo l'invito a venire in live al signor Zanon soprattutto per farci dire se a certi personaggi ha detto che c'era stato un passaggio di vuota inesistente ma sappiamo già che lui non gliel'ha detto ora Sassuolo Bologna e Genua due punti mi fanno giuse lo so cosa bisogna fare allora bisogna andare nel panico non c'è bisogno di andare nel panico ho visto tantissime critiche a Sommer quando io ho visto estate per scherzare ti dicevo dove l'è Sommer è perché ancora quasi a settembre non era arrivato ma non perché non stimassi il portiere perché io ho sempre detto che Sommer è un portiere fenomenale fenomenale Sommer è un portiere fenomenale sulla linea di porta però perché ha po' fisicità e la sua modesta altezza non gli permette scusate è andata di traverso la saliva non gli permette di uscire e quando ci sono dei calci piazzati tanti in una partita tipo ieri si vede l'ho detto ieri sera nel mio piccolo dopo il video noi soffriamo nei calci piazzati Sommer al Bayern alternava siccome io seguo la Bundesliga da tanto tempo ecco perché ti dicevo prendi tu rammi infortunato e lascia correre alla Lazio non perché ero matto perché conosco un po' di raggiatori della Bundesliga Sommer al Bayern Monaco era un portiere e soprattutto l'ultimo anno andate a vedere cioè alternava grandissime prestazioni a delle papere incredibili ovvero sia aveva sempre la papera in canna mentre lui all'Inter questa storia della papera che ha sempre avuto al Bayern Monaco l'ha non è che l'ha modificata l'ha quasi proprio estinta questa cosa qua è stato bravissimo Sommer perché poi tra l'altro lui a differenza di Onana non è un portiere emotivo e si butta subito giù cioè lui capito è forte di carattere un grande portiere ha una grande personalità anche se la sua carriera diciamo non è che ha giocato in 6-7 top club nel gol di Genoa c'era un buco centrale attenzione in quei casi cosa può succedere può succedere che il portiere aggredisce quello spazio mentre lui è rimasto fermo se aggredisce quello spazio ovviamente non prende gol io gli intendo credire uscire capito e ti voglio dire esplodere in avanti dirlo come ti pare lui rimane fermo si prende gol però criticare Sommer secondo me è ingiusto poi ognuno può dire tutto quello gli pare ragazzi ma criticare Sommer secondo me non è giusto perché comunque ha offerto delle grandissime prestazioni se bisogna spaccare il capello in quattro bisogna spaccarlo da altre parti tipo ieri parlavo con Francesco dell'inter club di Siena che saluto ma mi stavo dimenticando ragazzi scusatevi saluto il grandissimo Marco Bolognini Marco Bolognini ti sono vicino Marco perché lo so cosa vuol dire perdere un animale perché anch'io ho sempre avuto cani e gatti e ti sono vicino ti mando un abbraccio virtuale saluto il grandissimo Ivan di Pietra saluto Oscar e saluto il grande Pierluigi persone con cui puoi parlare di calcio persone serie quelle poche persone serie e puoi trovare su YouTube perché YouTube ragazzi è una giungla ve lo garantisco io ho trovato seriamente delle persone stanno male e che andrebbero aiutate lo state vedendo anche in queste ore cosa sta succedendo ma a parte quello criticare secondo me Sommer è ingiusto però a centrocampo avendo abbassato parecchio Cialanoglu che parlavo con Francesco e saluto dell'Inter club di Siena avendo retratto parecchio ehm Cialanoglu come play non non abbiamo centrocampisti che tirano in porta ovvero sia ci potrebbe essere Mkhitaryan ma tiriamo poco in porta ci serve qualcuno che ti importa vedi di riportare il matter camp di tennis di Angelischi per esempio del Napoli che Mkhitaryan che zelischi è sicuramente un calciatore che sa che sa trattare la palla che sa cosa faccio la palla ma negli ultimi due anni è stato un po' also nell'alternante poi ha avuto un problemino al cuore capito ci servono centrocampisti bisogna tirare in porta anche da centrocampo ragazzi e davanti lo sapete per me se ci sono due trecentomila euro che avanzano bisogna spendere lì davanti perché ieri sera Sanchez, io non voglio inferire perché non ce l'ho con i ragazzi Sanchez è impresentabile ormai a certi livelli, te l'ho sempre detto tra i due magari Arnatovic è quello che ti può far alzare la palla, è quello che tecnicamente comunque ti può far inserire centromampisti, è quello che può fare un po' più gioco di squadra rispetto a Sanchez, Sanchez può essere decisivo in dei colpi di genio magari diversi ma ormai sono giocatori alla fine, mi quindi io oggi parto per un paio di giorni fuori ma comunque penso di fare un video stasera, ragazzi non vi abbandono sono qui e mi raccomando il successo di questo canale dipende anche da voi, non dipende solo da me, se vi fa piacere potete sostenerlo gratis con un click e attivando la campanellina perché io in questo canale qui, l'elemosina, l'elemosina l'ho mai chiesta in vita mia ma l'elemosina ai tifosi dell'Inter chiedendo le donazioni non la faccio, non ho nulla contro chi lo fa ma ce l'ho con chi lo fa, che sporca YouTube è il nome del DIT, ciao! grazie a tutti!